Comiso nascondeva tre atti di droghe in casa, arrestato dai carabinieri Angelo Corrifeo, dalla sostanza potevano essere ricavate più di mille dosi. Comiso e segretario regionale del partito repubblicano italiano Gino Calvo lancia un appello, PD e PDL si mettano da parte e dia uno spazio a nuove energie. Primare del centro-sinistra, domenica il ballottaggio tra Bersani e Renzi, decisivi voti di vendola, tabaccio e puppato. Comune di Ragusa, gatte da pelare per la rizza, oggi in consiglio la situazione finanziaria dell'ente, intanto Roccella è fuori dal consorzio universitario. Vittoria proposta del PDL, risparmiamo usando la posta elettronica certificata per le notifiche ai consiglieri. Buon pomeriggio dalla redazione di Free News, in apertura di questa edizione del nostro Tg La Cronaca, importante arresto da parte dei carabinieri di Comiso nella lotta allo spaccio di droga. Si tratta di Angelo Corrifeo, comisano di 42 anni, trovato in possesso di 320 grammi di marijuana. 1.126 dosi di marijuana e quanto poteva ricavare Angelo Corrifeo, 42enne, comisano dai 320 grammi di droga che teneva nascosta in casa, dentro un sacco di plastica nero. I carabinieri di Comiso lo hanno arrestato ieri durante un servizio attuato nell'ambito della lotta allo spaccio di droga. L'uomo, un ambulante con precedenti per reati contro la persona, nel corso della perquisizione personale domiciliare presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso, oltre che della droga, anche di un bilancino di precisione, di un rotolo di carta stagnola e di mezzo guscio di noce di cocco, intriso della stessa droga, strumenti utilizzati per la suddivisione della sostanza e il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. La sostanza avrebbe potuto fruttare circa 2.500 euro sul mercato dello spaccio. Saranno adesso le analisi del Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASPE di Ragusa a stabilire l'effettiva composizione della droga, al fine anche di verificare se si tratti della stessa partita della sostanza sequestrata ai due minorenni, sorpresi nei giorni scorsi in contrada a Billona. Corifeo, al termine delle formalità di rito, è stato immediatamente portato alla casa circondareale di Ragusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria eblea, davanti la quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un altro arresto è stato compiuto ieri dagli agenti della squadra mobile di Ragusa. Si tratta di un ragusano che deve scontare oltre sette anni di carcere per una serie di reati commessi. Arrestato ieri sera dagli uomini della squadra mobile Giovanni Vespa, 41enne ragusano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti, Vespa dovrà scontare sette anni, cinque mesi e diciassette giorni di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio commessi negli ultimi anni nel comprensorio ragusano. Dopo le formalità di rito, il 41enne è stato portato alla casa circondariale del capoluogo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Torniamo ad occuparci della tragedia che si è consumata la scorsa settimana sulla vittoria a Scoglitti e che ha portato alla morte di quattro persone. Una dei due superstiti, la piccola Desiree, che nel sinistro, lo ricordiamo, ha perso i genitori e il fratellino, è stata operata. Non sa ancora che la mamma, il papà e il fratellino sono morti. La piccola Desiree è la bimba di cinque anni che è sopravvissuta al terribile incidente stradale che è avvenuto giovedì scorso sulla vittoria a Scoglitti. La piccola è stata operata all'ospedale Guzzardi di Vittoria. I chirurghi del reparto ortopedia le hanno dovuto mettere a posto il bacino, frantumato a seguito dello scontro. Desiree pare abbia superato bene l'intervento, ma ancora non sa niente della morte dei genitori del piccolo Joseph. Resta ricoverato all'ospedale civile di Ragusa l'altro sopravvissuto alla tragedia, Giorgio Cascino, che era la guida del SUV BMW X5, che ha travolto frontalmente la lancia Ypsilon e su cui viaggiava la famiglia Schiaccianoce. Ancora non sono note le cause dell'incidente. Forse l'alta velocità a perdere la vita nel sinistro è stato anche Valerio Di Pietro, che viaggiava con Cascino. Per l'ustrazione aerea e terrestre, ieri su Vittoria è scoglitti da parte dei carabinieri di Vittoria, in collaborazione con il dodicesimo Elinucleo di Catania e la squadra esplorante della compagnia. Obiettivo prevenire e contrastare la detenzione abusiva di armi. Un uomo è stato arrestato. Un arresto è stato compiuto ieri dai carabinieri di Vittoria durante un controllo di tutti i soggetti sottoposti a misure restrittive nelle loro abitazioni. Si tratta di Giuseppe Pompella, vittoriese di 62 anni, pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, poiché è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. In particolare l'uomo, ai carabinieri che lo aspettavano, ha detto di essersi allontanato per andare a trovare il cugino, con il quale doveva discutere di alcune faccende, in violazione delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. A seguito della sua condotta, l'uomo è stato arrestato per il reato di evasione. L'arresto arriva durante uno straordinario servizio di controllo del territorio di Vittoria e Scoglitti, che ha visto impegnati i carabinieri Parini, insieme al dodicesimo elinucleo di Catania e alla squadra esplorante della compagnia, formata da militari appositamente addestrati per il pattugliamento e il controllo delle aree rurali e di quelle zone difficilmente raggiungibili nel corso dell'ordinario controllo del territorio. Le perquisizioni miravano la ricerca di armi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della detenzione abusiva di armi clandestine. Ci occupiamo adesso di politica, spazio a nuove energie per risollevare le sorti della città di Comiso. Il segretario regionale del Partito Repubblicano Italiano Gino Calvo si rivolge ai partiti che hanno amministrato la città fino ad oggi causando il dissesto finanziario ed apre al coinvolgimento dei cittadini per scrivere il programma in vista delle prossime elezioni amministrative. Spazio a nuove energie e via i partiti che hanno amministrato fino ad oggi la città di Comiso. A Grammogil il segretario regionale del Partito Repubblicano Italiano Gino Calvo lancia l'idea di un nuovo percorso politico che coinvolga i cittadini nella stesura del programma e nella scelta dei contenuti. Nella conferenza stampa di ieri mattina il segretario Calvo ha dedicato ampio spazio alla crisi che gli enti locali stanno attraversando a causa della spending review da parte del governo nazionale. Proprio la città casmenea già in dissesto dovrà far fronte presto ad aumento delle tasse che ancora oggi non è stato percepito dai cittadini. Difatti, spiegherlo il segretario del PRI, in 5 anni bisognerà recuperare circa 25 milioni di euro. Nei fatti questo significherà che le tasse attuali saranno triplicate per rispettare il margine previsto dalla legge in caso di commissariamento. Ma non solo Comiso, anche Modica dove si voterà il prossimo anno e in una situazione di predissesto e a Ragusa per la prima volta ci sono ritardi nei pagamenti ai fornitori. Basta guardare le cooperative che devono ricevere benze e mensilità. Noi intendiamo da oggi rilanciare un percorso politico nel quale vogliamo invitare i cittadini a fare politica e a essere protagonisti della politica. Quindi scrivere il programma e su queste cose chiedere non il voto ma il consenso alle idee. Perché pensiamo che dinanzi a una politica di spending review, cioè di risparmio che devono fare i comuni, occorre che i partiti facciano un passo indietro. L'abbiamo detto a Comiso in modo chiaro. Il PD e il PDL si allontanino dalla macchina burocratica e amministrativa, lasciano il danno che hanno fatto e facciano in modo che a governare siano persone nuove, persone capaci, persone che non appartengono alla politica ma appartengono alla voglia di dare risposte a Comiso. Il partito repubblicano italiano prosegue ancora calvo e pronto a confrontarsi ed aprirsi ai cittadini per costruire insieme il futuro degli enti locali. Siamo pronti a fornire le nostre proposte per il bene delle comunità. Oggi i repubblicani che sono un partito piccolo ma dà la grande storia del percorso naturale di soggetti che danno sempre un'accezione diversa alla politica perché sono al servizio della politica e non al servizio dei potentati o delle voglie di essere seduti nei banchi del governo vogliono portare avanti. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco.